Per i speciali di Agenzia Stampa Italia oggi il focus lo facciamo su scienza e medicina. Siamo nello studio ambulatoriale del dottor Carmine Ciccarini, un medico oculista, per porre a lui alcune domande. Dottor Ciccarini, lei dopo essere stato negli anni 90 e nel 2000 un innovatore della chirurgia della cataratta e del laser a Decimeri ed aver lavorato con grandi professori di livello internazionale, oggi si dedica a malattie genetiche rare considerate incurabili ma che a sentire pazienti medici le riesce a curare e anche le università straniere cominciano ad interessarsi ai suoi lavori. Come mai questa trasformazione e cosa ha imparato da questi luminari internazionali? Un po' è stato un ritorno alle origini perché io ho cominciato a lavorare inizialmente a Parma in un centro di malattie rare dove ci occupavamo di malattie genetiche, di malattie molto rare che venivano da tutta Italia, quindi ho avuto l'opportunità, la fortuna di poter vedere queste malattie che normalmente gli oculisti spesso non vedono, vedono molto raramente. In precedenza avevo fatto una tesi con il professor Badis-Wallner di New York della Mount Sinai School, avevo lavorato con Hoyt di San Francisco e oltre ad avere esperienze chirurgiche con Cesare Forlini, Zivoinovic, Eckhart e quindi aver appreso un po' questo mestiere. Ho notato che lei non ama il termine incurabile, come mai? Perché incurabile, insomma le malattie veramente incurabili forse riguardano più la sfera psichiatrica e neurologica, oggi come oggi. Nel campo dell'oculistica credo che sia possibile, con una buona inventiva, lavorando, studiando, riuscire a prontare delle terapie, perché i farmaci ci sono e sono stati testati. Soltanto, forse manca un po' di fantasia, ma è possibile, secondo me, prima che l'ingegneria genetica diventi di uso comune, approntare delle terapie che abbiano un risultato soddisfacente. Per lo meno io vedo in molti dei miei pazienti che ho dei buoni risultati. Un altro dato che ho osservato è la sua insofferenza verso le ditte farmaceutiche. Ci spiegai perché? No, il problema è che chiaramente affidare la salute pubblica a un'industria privata dove c'è un monopolio di fatto, comporta che i medicinali sono troppo cari. Ecco, questo è il problema. Dovrebbero essere più modesti nell'arricchimento, usiamo questo termine. Quali sono, secondo lei, i farmaci che andrebbero studiati con maggior cura e che possono rendere migliore la vista dei pazienti con maculopatie genetiche ed acquisite o delle patologie del nervo ottico? Beh, a parte i farmaci antiveg, perché già sono a un buon punto, credo che poi sarà importante l'utilizzo dell'NGF e della Levi Montalcini, come ho già detto in un'altra intervista, anche di farmaci che attualmente non sono mai stati considerati, tipo l'allevodopa, l'idebenone, l'acido ittioico. C'è una varietà di farmaci già conosciuti e utilizzati che possono essere in cocktail usati con una certa efficacia. Lei che è uno stimato oculista, cosa consiglia a chi vuole prevenire le malattie degli occhi in futuro? Beh, per coloro che hanno in famiglia già di casi di maculopatie, di atrofie ottiche, quindi malattie genetiche, perché poi in definitiva la maggior parte delle malattie hanno una base genetica, anche quelle che noi consideravamo idiopatiche, di usare dei farmaci che hanno un'azione sull'antiossidante, che agiscono sul mitocondrio, perché non dimentichiamo che la maggior parte delle malattie genetiche agiscono a livello mitocondriale ed esistono questi farmaci. Termina qui lo speciale di Agenzia Stampa Italia, oggi era incentrato su scienza e medicina, proprio ringraziamo il dottor Carmine Ciccarini, un oculista che ha avuto un'esperienza internazionale e che ha avuto la possibilità di collaborare con luminari internazionali, ma soprattutto un oculista dove vi è una cosa particolare, ha cancellato dal suo vocabolario il termine incurabile per quanto attiene le malattie oculari.